Ciao bambini, oggi voglio preparare con voi i gnocchi alla romana. Ho fatto bollire un litro di latte, adesso aggiungo due atti e mezzo di semolino e lo metto piano piano. Andiamo a farlo cuocere fin quando si stacca dalle pareti. Quando si stacca dalle pareti e anche dal cucchiaio, è cotto il semolino, aggiungiamo 50 grammi di burro e rimescoliamo. E intanto aggiungiamo anche due uova. Bisogna rimescolare velocemente. Quando le uova sono ben amalgamate, aggiungiamo 50 grammi di parmigiano. Le mescoliamo. Quando l'impasto è pronto, ho bagnato questa teglia e andiamo a versare il composto. Lo riveliamo bene e lo lasciamo raffreddare. Quando si sono raffreddato, prendiamo uno stampino e facciamo dei cerchi. E andiamo a deporli in una teglia che abbiamo imburrato e messo un po' di pangrattato. Quando abbiamo fatto i gnocchi, mettiamo un po' di pangrattato e un po' di formaggio. E andiamo a cuocere finché si dorano. Ed ecco qua, il piatto è pronto. Sono belli, quando sono belli dorati, sono pronti. Ciao bambini!